Salve a tutti ragazzi e bentornati qua nella Minecraft Multiverse Nello scorso episodio ragazzuoli ci siamo lasciati qua all'interno della piramide All'interno di questo santuario con una costruzione stranissima Che non avevo mai visto in nessuna serie di Minecraft, assolutamente E non so di cosa si tratta, però ha del potenziale a quanto pare Non lo so, c'è forse un circuito, qualcosa, qua un buco Non lo so, non so che cosa dobbiamo fare Quindi magari indaghiamo Ok, ho l'inventario pieno, devo un po' svuotarlo Ma comunque c'è un villaggio, perché la piramide che abbiamo trovato sta all'interno del villaggio E quasi quasi sapete cosa, siccome questo monumento potrebbe avere del potenziale Magari potremmo utilizzarlo perfetto anche giorno Magari facciamo una cosa, possiamo ricreare questa struttura della piramide Oddio che c'è un buco, non me ne ero accorto Eh eh eh, quello va un po' tappato E insomma però dovremo provare a fare una cosa del genere Ovvero creare una specie di scaletta giusto per No lo scudo no, ma che sei matto Eh lo scudo no eh Facciamo che le torci ce la mettiamo nella seconda mano in questo modo E facciamoli inventario in questo modo Allora cerchiamo di risalire un pochetto in questo modo Perché sono curioso di vedere se qui tipo Questa grotta c'è qualcosa Mi sembra di no Nascondere qualcosa No, sembrerebbe di no Vabbè Ehm Possiamo creare magari un passaggio che va fino qua giù in fondo Quindi magari nel prossimo episodio Magari off camera Possiamo anche pensare In questo caso però magari Farmiamo un po' di O di stone O di sandstone Insomma per risalire un po' sopra Insomma per Non distruggere tutto quanto Perché volevo vedere se magari all'interno del villaggio C'erano delle risposte Di cosa si tratta insomma Questa costruzione qua sotto Magari potrebbe Coprire qualche cosa Non lo so Ok Allora L'entrata della piramide sta qua Ok noi possiamo comunque Dormire nel villaggio Che il villaggio sta dalla parte opposta Bravo Resist Bravo Rubiamo un letto Povero disgraziato Là c'è un creeper Mannaggia c'è già un creeper nel villaggio Eh no Questo va fatto saltare in aria Ovvio Cioè non va fatto saltare Va ucciso E basta Mattina sta a letto Va a letto vai Vabbè Sapete cosa Metti in culo al letto Un nuovo giorno per noi Ok Allora Esploriamo questo villaggio Perché la volta scorsa Abbiamo visto soltanto Che c'era C'è uno scarotto Che sta prendendo fuoco Volevi proprio Creeper Che si mimetizza Nell'erba alta E i golem Guarda che anche i creeper Potrebbero essere dei nemici Guarda è meglio che Muoia un singolo Villager Che scoppi tutto quanto Insomma Comunque Abbiamo visto che c'era una torre Abbiamo visto la torre lì C'era una cesta Niente di che Guardiamo un po' Magari in giro E cerchiamo anche di Magari potremmo farci Ancora con la base All'interno di questo villaggio Giusto per depositare un po' di roba Perché siamo pieni 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 Quindi è un po' Cos'è questa roba? Argilla? Sì argilla Sono cactus pane Il pane lo prenderebbe volentieri E un po' Magari depositiamo un po' di roba Anzi Cioè Proprio creiamoci una nostra casetta Dov'è che possiamo abitare In questo villaggio? Una casa umile vorrei Neanche troppo Io sa che cosa Una casetta umile Emo c'è questa casetta O la torretta Va Chi se ne frega Questa dovrà in poi Sarà la nostra casetta No che cavolo È una finta casa qui È un passaggio È una casa bucata È una casa troll questa Non ci voglio abitare là dentro No Allora prenderò questa casetta qui Proprio accanto alla piramide Guarda prenderò questa Questa è la mia casetta Questa ragazzi Sarà la mia casetta In questo villaggio Guarda la bellina che è Un libro incantato All'interno di questa cesta Ma perfetto Allora Ripusiamo un po' di roba Giusto per fare un po' di spazio Questa non so se è la mappa di qui No mappa zero Allora di questo posto Questa è la mappa di casa Teniamocela Magari per ritornare un po' a casa Se non funziona la bussola E Anzi Magari potremmo tornare a casa Altrezzo del nether Poi vabbè Depositiamo un po' di roba Che non ci servono Al piccone ci serve Questo L'oro Il letto Ce ne sono a Iosa qui Blocchi a costruzioni Porte Vabbè Facciamo un po' Un po' Un po' Tutto Tanto Possiamo fare benissimo Cioè farming di tutto E di più Prendiamo il libro Che non è un libro Ricantisi Ma è un libro Da leggere Giorno 105 Tener E il tale Asp Tonsnare Un Diamante Che ebbe Sere su clienti Su centi Che libro è questo? Che cosa è questa roba? Qualcuno la può tradurre Per favore? Cos'è sta roba? Credo Un libro Da tradurre Mi sa che Forse dovremmo Cercare Un villager Un cartografo O un librario Che insomma Tu chi sei? Comi comi Che sei? Che fai? Che fai Così con la testa? Oh Non posso interagire Con lui Perché? Allora Lui dice di no Ma come si fa? Diamante Guardi Ho i soldi No carne ciccia mia No Non vuole Perchè? Tu? No Questo è un farmer Questo sicuramente vorrà scambiare qual Perchè? Ok Ok Lui funziona Ok Quelli Non sono funzionali Credo Quindi neanche tu No No proprio Zero Non mi cagano Villagers Inutili Che c'è lì sopra Ok Quella roba L'armaiolo Che costruzione è questa? Ma cos'è fatta? Ah E si possono fare anche le scale in granito Ganza Allora E stanno sapevo Questa la fornace Quella La blast furnace È forte Com'è che posso farti tradurre il libro a te? Per favore Mi serve un libraiolo Un libraro Che cavolo trovo un libraio? Perché non lo trovo in questo villaggio? Qui sono dei nullafacenti Esti villagers Visto che siamo qui Farmiamo anche un po' di cactus Magari andiamo un po' in giro Andiamo un po' di fare qualche cosa Check your recipe book Nuova ricetta sbloccata con i cacatus Ok C'è la piramide Comunque Vabbè Io ho la mappa del villaggio Quindi Non dovrei neanche troppo perdermi qua giù Signori Io direi di Ok Quello volevo fare Perfetto Volevo proprio cercare un lago di lava E l'abbiamo trovato già subito Ma proprio mentre lo pensavo Volevo Volevo Creare dell'ossidiana Perché voglio raccoglierla Per creare un portale del nether Per tornare a casa E creare un passaggio Tra questo villaggio E casa mia Purtroppo però Non credo di avere i diamanti Ovvero I diamanti li avevo Ma a casa Io quindi non sono soltanto Trovato nella Nella Un'oceano Interessante È interessante Ma lì c'è un buco enorme Potremmo magari esplorare Cioè però abbiamo fatto già diversi episodi In miniera Magari Diamanti li troverò un po' Per conto mio Vediamo un po' E comunque in questo mondo Di villaggi Insomma Ne abbiamo già trovati Almeno 3-4 Eh sì Più o meno Le tartarughe Guarda le tartarughe No poverina tartaruga È rimasta dietro Guarda va Facciamo un'opera di bene La WWF Lo ringrazierà Faccio un buco per la tartaruga Sì almeno andrà Dalle dalle sue amiche Ma qui qui comunque C'è tutto quanto l'oceano Potremmo anche provare A displorare più in là Ma che troviamo qualche cosa Nel mare Mentre qua c'è La savana Qui È un buco rischiosissimo Però magari Se ci porta abbastanza in basso E potete trovare Di diamo Sto caccare sotto Con la mappa Mi difendo O grullo Non ti azardare Vai rumore inquietante Grande Sai che c'è un altro Sì Più di uno Eh no Qui ci si tratta Il calzino ragazzi Va sotto Comunque si scende Qui scendiamo ragazzi Voglio andare a vedere Se riusciamo ad arrivare In miniera Perfetto Perfetto Possiamo Trovare il mondo Sotto Proprio quello che volevo Ok Ok grazie Minecraft Che ogni tanto mi ascolti Sono proprio contento Sono proprio in miniera Naturalmente Non ho un'ascia Con me Perfetto Quindi dovrò Crearmela Da zero Con il legno Da dove Da dove erano Sti 32 stecchini Ce l'avevo già prima Non ha già messo Ceco Io Monco un po' di legno Me lo piglio Più che volentieri Sapete E di qua Si esce Dalla miniera Qua giù Niente miniera Considerato Considerato che l'oro È più efficiente Però Non lo so Qui c'è Un buco Ma neanche una chest Ma siamo seri Neanche una fottuta chest In tutta questa caverna Eh si Se qui si cade Non lo raccontiamo Comunque Siamo a livello 11 Quindi potenzialmente Siamo a livello Di diamanti Redstone c'è Voglio provare A fare una cosa Se io Provo A costruire Un piccone In oro Posso prendere L'ossidiana Voglio solo provare Ah eh Però non la droppa Però non la droppa Vedi Eh no Serve il diamante Sì 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 Serve il diamante Rip Ci sarà Una vena di diamante In tutto ciò Sì Eh ma è uno Mi sa che è uno No sono due Perfetto signori Tre Diamanto a sigla Quattro 30 livelli Ok Ok Very good Possiamo prendere l'ossidiana Così nel prossimo episodio ragazzuoli Ma la metto qui così chiudo la lava Siamo più tranquilli e felici Nel prossimo episodio possiamo creare il portale Del nether Per tornarcene felicemente A casa E sì credo che per il momento Ci lasceremo qua Prendo un po' di ossidiana io off camera Se almeno starò a farmarla senza registrare tipo 2 ore Per prendermi tipo 20 blocchi di ossidiana Però vabbè dai Direi che per questo episodio ragazzuoli È tutto Abbiamo scoperto un libro Che dobbiamo farlo Credo decifrare O comunque qualcosa Perché non c'è solamente niente È proprio zero Però ci serve un Un librario Almeno un bibliotecario Perché in questo villaggio Sono tutti nulla facenti Nessuno ci vuole Ci vuole dare Nessuno vuole scambiare Noi tranne il farm Io sti nuovi villager Proprio non li capisco Ma vabbè ragazzi A questo punto Uncluiamo a questo video Come al sol Se vi è piaciuto Vi lasciate tanti Tanti bel like Iscrivetevi al canale E cliccare sulla campanella Per ricevere ogni notifica Di questo canale Seguitemi su Instagram E noi ci vediamo Un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti